Le guide di Repubblica continuano a crescere, aggiungendo un nuovo e prezioso volume alla sua collana, con la prima edizione della Guida ai Sapori e ai Piaceri della Calabria, presentata al ristorante L'Approdo di Vibo Marina nei giorni scorsi. Alla presenza del sottosegretario e beni culturali Dorina Bianchi, il giornalista di Repubblica Giuseppe Cerasa, con l'ausilio della dirigente regionale Sonia Talarico e di Rosario Branda di Un'Industria Calabria, ha illustrato l'opera, una vera e propria raccolta di tutte le eccellenze che fanno della regione un luogo pieno di ricchezze storico-culturali, ma soprattutto enogastronomiche. Nelle sue pagine sono segnalati e raccontati 230 ristoranti di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valencia, 135 botteghe del gusto come forni, pasticcerie, caffetterie, tavole calde, pescherie, noteche e bar, 66 agriturismi e ititurism, 75 bed breakfast, 15 location per ricevimenti, 80 produttori di olio, 55 produttori di vini e 22 caseifici. Non mancano gli approfondimenti fondamentali per scoprire le ricchezze culturali di un territorio così geograficamente vicino a quello siciliano, come la sezione dedicata alla Calabria-Arbresch, con le sue tradizioni folcloristiche, molto seguite dalla comunità dei centri albanofoni. I percorsi che conducono attraverso i parchi e le oasi della regione, come l'area archeologica sul promentorio di Capocolonna e ancora gli itinerari del gusto alla scoperta dei prodotti tipici del territorio, dal bergamotto di Calabria alla cipolla rossa di Tropea, dalla lenticchia di Mormanno alla liquirizia di Rossano. E infine la sezione piatti della memoria che raccoglie le ricette della tradizione e poi di lasciare spazio alle ricette delle migliori chef calabresi che hanno messo a disposizione dei lettori i loro segreti. E' una guida che è difficile da definire perché parla sì di turismo, parla di personaggi, di storie, di enogastronomia ma anche di ricette, parla anche di parchi, parla anche di archeologia, di centri di benessere. E' una guida sulla Calabria destinata a tutti i calabresi che vivono in Calabria, in Italia e nel mondo. Un modo per ritrovarsi con la propria terra, riconoscere la propria terra, sapere che è patrimonio dell'Italia intelligente, dell'Italia che vuole andare avanti ed è patrimonio del mondo. Tutto il mondo ha il dovere barra diritto di conoscere una Calabria così brillante, così vera, ricca di attrattive che può riservare centinaia di sorprese come sono le sorprese che ha riservato a noi che la conoscevamo ma non così bene e che l'abbiamo raccontata, spero, bene. Può avere un'influenza mondiale, non solo nazionale, locale? Secondo me c'è un taglio che può essere sicuramente di richiamo, bisognerebbe farla in inglese sicuramente per poter avere anche un ponte di comunicazione. Noi speriamo che ci sia qualcuno, a cominciare dalla regione, che abbia voglia di utilizzarla come strumento di conoscenza del territorio e che ci aiuta a fare operazioni anche di natura mondiale. Siamo ben felici di farlo, siamo pronti a farlo, siamo sicuri che serva farlo. Il lucio della Calabria parte anche dalle guide turistiche e gastronomiche. Sicuramente una guida alla Calabria da gustare, da bere, non soltanto da vedere, naturalmente nella guida ci sono dei percorsi molto interessanti che però fanno vivere la Calabria nel modo migliore, quindi proponendo dei ristoranti, delle aziende che producono olio, vino, caseari, aziende caseari, insomma è tutto quello che si può trovare di buono nella nostra regione. Quindi è uno strumento utile a quei visitatori che decidono di venire a vivere anche un'esperienza emozionale in Calabria. Nel corso del suo intervento parlava di coste, però c'è anche un'entroterra molto ricco in Calabria. Noi abbiamo 800 chilometri di coste, ma abbiamo i tre grandi parchi naturali che sono il Pollino, la Sida e la Spromonte, abbiamo un parco archeologico che è il più grande del sud Italia, abbiamo i bronzi di Leace, abbiamo tutto il patrimonio della grande biodiversità che offre la nostra regione. Tutte queste cose insieme credo che possano davvero diventare un grande attrattore per chi vuole non soltanto vedere dei panorami meravigliosi, vivere dei territori tranquilli con dei profumi che nelle grandi città non si sentono più, ma vuole anche gustare delle cose buone.